Ancora polemiche dopo il caso Io compro Nisseno su un altro video fatto realizzare dal Comune per promuovere la manifestazione aspettando Terra Madre. Tutto è nato dopo uno sfogo sui social del videomaker Nisseno Roberto Gallà, il quale si è detto perplesso per il fatto che il video, costato 10.000 euro, non sia ancora disponibile su internet e soprattutto perché l'incarico di realizzarlo è stato nuovamente affidato a una ditta di Palermo, tralasciando le professionalità Nissene. La questione è semplicissima, io mi ricordo che in campagna elettorale si parlava proprio di questo, di tre spazi locali e mi ricordo pure col vecchio sindaco quando succedeva qualcosa blanda addirittura, l'amministrazione, l'attuale amministrazione scoppiava l'inferno proprio si volavano parole grosse, invece adesso calma piatta, come se tutto dovesse essere tranquillo. Ora, il problema è questo, questo altro video promozionale di 10.000 euro, che per me è una cifra fuori mercato, abbiamo visto come è finita con il video con Pronisseno, quello è un altro capitolo, questo è un altro brutto capitolo. Perché brutto capitolo? Perché io leggo che sono state invitate delle ditte a partecipare, quindi non esiste nessun bando. Ora, io quello che chiedo all'amministrazione è questo, con quale criterio si sono invitate queste ditte e soprattutto chi ha la competenza per poter dire che questa ditta è migliore dell'altra. E noi, questo video, parlo in plurale come noi cittadini Nisseni, lo vogliamo vedere questo video a 10.000 euro, lo vogliamo vedere perché praticamente sono soldi nostri dei cittadini, quindi qualunque fine faccia questo video, qualunque futura prospettiva avrà di festival, eccetera, eccetera, noi adesso, ora, lo vogliamo vedere, vogliamo vedere come sono stati spesi i nostri soldi. Sul punto abbiamo sentito l'assessore comunale alla crescita territoriale Francesco Nicoletti, il quale ha innanzitutto precisato che i fondi impiegati per la realizzazione del video non provengono dalle casse comunali, ma sono fondi europei, visto che Terra Madre, manifestazione che ha già vissuto i suoi primi due appuntamenti in città, rientra nel progetto MDNet, che si muove in un altro ambito. Sui criteri per la scelta della ditta a cui affidare l'incarico, l'assessore Nicoletti ha spiegato che tale incombenza non è di natura politica e che la competenza è degli uffici preposti che hanno vagliato le candidature e scelto di conseguenza. L'assessore Nicoletti ha inoltre spiegato che il video verrà diffuso nelle ambasciate italiane all'estero in occasione della settima edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, che si terrà a Torino dal 15 al 20 novembre prossimi. L'esponente dell'aggiunta Gambino, da parte sua, ha cercato di sgombrare il campo dalle polemiche, affermando «Ho visto il video di Roberto Gallà, dice che da tre giorni cerca il video, ma mi chiedo, non era più semplice fare una telefonata? E mi sarebbe anche piaciuto che tutte le persone che cercano il video fossero state presenti alla manifestazione». Grazie.